Domani, sabato 1 luglio a Fano, ci sarà la notte dei saldi. E' questo infatti il periodo ideale dell'anno per fare dei veri affari. E stavolta per partire tutti alla pari si comincia ovunque nella stessa data su tutto il territorio nazionale. I saldi dell'estate 2017 inizieranno infatti ufficialmente il 1 luglio e termineranno ad agosto. Anche i commercianti di Fano, in linea con le disposizioni nazionali, si presentano pronti alla sfida all'ultimo capo, attirando meglio che si può la clientela sin da subito, partendo con la notte dei saldi per aumentare l'offerta e attirare in centro più gente possibile. Sì, anche quest'anno ripetiamo la notte dei saldi, sabato 1 luglio ed è molto importante per le loro attività, intanto sia per loro e anche per i cittadini che possono venire in città a comprare con dei prezzi stracciati. Quindi è un'ottima occasione per affari sia per i commercianti che per i cittadini. Il momento anche per l'economia locale non è dei migliori. Durante l'anno il giro economico dura fino a metà mese, dicono alcuni commercianti del centro. Poi è il deserto. Allora in questi casi ci si rimbocca le maniche e ci si dà da fare. Ma lo spirito è quello degli altri anni, magari quest'anno è un po' più in sordina, però lo spirito è quello di… in pratica questa è l'unica serata dedicata veramente al commercio. È l'unica serata che i commercianti del centro sentono propria, perché in pratica è l'unica vera serata dove il commercio ha la parte predominante. Grazie. 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 Grazie.